Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, raggiunge il podio e prende la parola. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie di questa accoglienza, grazie alla Presidente Tesei, a tutta la sua giunta, grazie al Ministro Fito, ai parlamentari presenti, ai tanti sindaci che vedo in platea, grazie ai cittadini, grazie a tutte le autorità per questa bella e importante giornata che fa stato di un lavoro molto complesso che abbiamo portato avanti, del quale io sono particolarmente fiera, perché è quella parte del lavoro che di solito i governi come gli amministratori fanno, che ha minore diritto di cittadinanza sui mezzi di comunicazione rispetto magari alla polemica quotidiana, ma che davvero dà le risposte che servono ai cittadini. Allora consentitemi di fare mezzo passo indietro per raccontare quello che il Governo ha fatto dal suo insediamento sul tema dei fondi di coesione e più in generale sul tema dei fondi che troppo spesso noi abbiamo a disposizione e non riusciamo a spendere adeguatamente, che è stato molto faticoso e per il quale devo particolarmente ringraziare il Ministro Raffaele Fitto. Quando noi siamo arrivati al Governo di questa nazione ci siamo resi conto che ad esempio per quello che riguarda il fondo di coesione e sviluppo, che come voi sapete sono le risorse che per antonomasia servono a combattere la disparità tra i territori, significa chiaramente combattere il divario tra nord e sud, significa combattere l'altro divario molto forte in Italia che è quello tra la costa adriatica e la costa terrenica, significa combattere il problema dell'infrastrutturazione di ragioni centrali piazzate nel bel mezzo dell'Italia che incredibilmente sono state isolate nelle loro infrastrutture e hanno perso così un'infinità di occasioni. Significa combattere i divari all'interno degli stessi territori, per esempio tra le città e le aree interne, sono fondi straordinariamente importanti per una nazione come la nostra. Che cosa abbiamo scoperto quando arrivando al Governo abbiamo aperto un'interlocuzione che ha coinvolto tutti i Presidenti, quasi tutti i Presidenti delle regioni italiane, quelli che erano disponibili a entrare nel merito dei problemi, ma trasversalmente alle forze politiche, lo voglio dire, perché è stato un lavoro faticoso molto importante, per andare a capire la ragione per la quale vi do questo dato, nella vecchia programmazione 2014-2020, conclusa due anni fa, perché noi stiamo ragionando della nuova programmazione, c'era una disposizione della programmazione a ciclo 2014-2020, 126 miliardi di fondi di coesione ne erano stati spesi 47. Ora io mi chiedo e vi chiedo se una nazione come l'Italia, che obiettivamente non è che proprio navighi nell'oro e che di problemi di divari tra i territori ne ha diversi, si può permettere di non far arrivare a terra 70-80 miliardi di euro, io penso di no, e allora abbiamo avviato con i Presidenti di regione un confronto per capire come si potessero superare questi problemi, perché poi non è solamente, certo c'è chi è più efficiente, chi è meno efficiente, ma c'erano anche problemi oggettivi. Abbiamo aperto questa interlocuzione e siamo arrivati alla stesura di un decreto che si chiama decreto sud che riorganizza i fondi di coesione, che riorganizza i fondi di coesione stabilendo alcune differenze rispetto al passato e istituisce questi accordi di coesione. Una di queste differenze fondamentali è che noi finanziamo con i fondi di coesione nazionali i progetti proposti dalle regioni e condivisi dal Governo nazionale, questo ha fatto arrabbiare qualcuno, ma la ragione per la quale noi chiediamo di condividere quella visione è che non siamo, anche se ogni regione ha le sue specificità e ogni regione ha le sue particolarità da dover valorizzare, i suoi problemi da dover affrontare, noi non viviamo in una nazione fatta di 20 monadi, dove ognuno va per conto suo e non fa parte di una strategia nazionale. Il ragionamento che per esempio la Presidente Tesei faceva sul rapporto con l'Abruzzo, con le Marche, così come le Marche ad esempio e la Puglia cercano di lavorare insieme, l'Abruzzo per valorizzare una costa che ha avuto obiettivamente dei problemi di infrastrutturazione nel passato, è perché noi siamo capaci di rafforzare le opportunità del singolo territorio se lo mettiamo in relazione con tutto il resto. Quindi serve una strategia nazionale, questo è un grande problema dell'Italia perché a noi obiettivamente una strategia è mancata, c'è mancata sul piano industriale, c'è mancata sul piano del posizionamento geostrategico, guardate solo il fatto che noi siamo una piattaforma piazzata in mezzo al Mediterraneo, una piattaforma piazzata nel mezzo di quel mare che è il crocevia del commercio marittimo mondiale tra i due grandi ambiti che sono l'Atlantico e l'Indo-Pacifico, ci siamo comportati quasi come se il mare non lo avessi, come se il mare non fosse una delle nostre più grandi infrastrutture, come se non dovessimo in qualche maniera renderci conto che con un'adeguata infrastrutturazione interna noi diventavamo naturalmente il crocevia di tutto quello che arriva in Europa, servono delle strategie e quelle strategie le puoi costruire solamente se chiaramente metti a sistema tutto quello che hai. Quindi abbiamo istituito questa innovazione che per carità in alcuni casi permetterà anche di spendere queste risorse per le cose che sono oggettivamente prioritarie perché insomma si sono anche trovate in quello che abbiamo visto nel passato delle cose un po' bizzarre che non avevano moltissimo a che fare col tema di combattere la disparità tra i territori e ripeto forse questo ha fatto arrabbiare qualcuno. Dopodiché abbiamo previsto i poteri sostitutivi quando ci sono delle difficoltà di realizzazione delle opere e abbiamo previsto anche il definanziamento quando ci sono dei fondi che vengono piazzati che non vengono utilizzati noi non possiamo permetterci e non vogliamo permetterci di mandare disperse quelle risorse e quindi prevediamo la possibilità di definanziare per investire quelle risorse su altro. Abbiamo previsto anche di coprire con le risorse del nostro fondo di coesione nazionale la quota di cofinanziamento delle regioni dei fondi europei e questo obiettivamente è un'enorme boccata di ossigeno per le regioni che possono così liberare parti significative del loro bilancio, il Presidente faceva ovviamente riferimento alle difficoltà che ci sono per i bilanci regionali e destinarli ad altri provvedimenti. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto preciso che oggi ci porta a stipulare questi accordi di coesione e lo abbiamo fatto mettendo in rete questo lavoro con gli altri fondi che abbiamo a disposizione, voglio citare il PNRR perché l'altra cosa che abbiamo scoperto è che tutte queste fonti di finanziamento, fondi di coesione nazionale, fondi di coesione europeo, PNRR, viaggiavano spesso in sovrapposizione senza che ci fosse un'interazione tra le varie forme di finanziamento, senza che ci fosse una strategia complessiva. Non è un caso che quando io ho formato il Governo ho voluto dare la competenza della coesione e del PNRR allo stesso Ministro perché noi abbiamo bisogno di fare anche questo e anche sul PNRR voglio rivendicare il lavoro che ha fatto questo Governo, non tanto per rispondere a chi diceva che con il Governo Meloni si sarebbero perse le risorse del PNRR e che se si fosse tentato, come noi proponevamo, di rinegoziare il PNRR, cioè di adeguare il PNRR rispetto a quando è stato scritto al mutato contesto e alle mutate priorità si sarebbero disperse queste risorse, però voglio rivendicare che a dispetto di tutti i warning che sono stati lanciati in questi mesi, nel 2023 l'Italia è stata una nazione che ha completato gli obiettivi della terza rata del PNRR, ottenuto il pagamento della terza rata del PNRR, completati gli obiettivi della quarta rata, ottenuto il finanziamento della quarta rata, completato gli obiettivi della quinta rata, prima nazione europea a completare e presentare gli obiettivi della quinta rata e mentre facevamo questo abbiamo anche rinegoziato il PNRR perché si poteva fare e facendolo che cosa siamo riusciti a ottenere? Punto primo di evitare che ci fossero dei problemi perché alcune opere non sarebbero state completate nei tempi molto stringenti che voi sapete prevede il PNRR, alcune proprio non erano finanziabili con il PNRR e quindi ci saremmo trovati oggettivamente con un problema nel pagamento di queste rate, quindi abbiamo trovato diverse fonti di finanziamento per i provvedimenti che non potevano stare all'interno del PNRR e abbiamo liberato 21 miliardi, che cosa abbiamo fatto con questi 21 miliardi? Questi 21 miliardi li abbiamo messi su quelle che noi riteniamo essere oggi delle priorità, 12 miliardi vanno al tessuto produttivo di questa nazione perché io sono d'accordo con la Presidente Tesei, noi ci dobbiamo ricordare che la ricchezza in Italia non la produce lo Stato, la ricchezza la producono le aziende con i loro lavoratori, quello che lo Stato deve fare è mettere queste persone nelle condizioni di lavorare adeguatamente e redistribuire in modo intelligente la quota di ricchezza che gli entra grazie a quello che viene prodotto dalle imprese e dai loro lavoratori e in qualche maniera qualche risultato sta arrivando perché il Presidente Tesei citava i dati sull'occupazione e io devo dire anche io che obiettivamente dei risultati che abbiamo visto in questi 14 mesi di governo, non mi ricordo più, a me sembrano 15 anni ma questa è un'altra storia, quelli che ci hanno dato più soddisfazione sono stati dati economici che sono molto incoraggianti perché l'Italia oggi record di occupazione, record di numero di occupati, record di contratti stabili, record di aumento dell'occupazione femminile che è, consentitemelo di dire, ieri era l'8 marzo secondo me uno dei più brillanti perché sono sempre stata convinta che la vera parità sia questa, cioè consentire alle donne di non essere costrette a scegliere tra diverse forme di realizzazione come quella di essere madre e di poter avere un posto di lavoro e una carriera. Dopodiché tasso di disoccupazione più basso, è vero che le cose non sempre coincidono, tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 15 anni ma sono molti altri i dati che io voglio ricordare velocemente che dimostrano che questa nazione ha delle potenzialità e che ci incoraggiano ad andare avanti. Reddito reale delle famiglie, l'Ox esce con un dato nel quale dice che nella media dei paesi che ne fanno parte, il reddito reale delle famiglie è diminuito dello 0,2% e che solo due nazioni nell'ambito dell'Ox fanno eccezione, che sono la Gran Bretagna e l'Italia, solo che la Gran Bretagna cresce dello 0,2, il reddito delle famiglie cresce dello 0,2 e in Italia cresce dell'1,4%, sette volte di più della media degli altri paesi. Così come dice che i salari nel 2023 sono cresciuti del 3%, che è il valore più alto in assoluto degli ultimi anni, chiaramente noi su questo abbiamo fatto una scelta molto precisa, cioè rafforzare i salari, rafforzare il reddito delle famiglie, ma ci dicono anche questi dati di un'altra cosa importante, lo scorso anno, Agenzia delle Entrate in questo caso, Agenzia delle Entrate certifica maggiore gettito per 26 miliardi di euro, che vuol dire? Vuol dire quello che dicevo prima, quando tu non disturbi e anzi cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza, lo Stato ne beneficia, perché parte di quella ricchezza torna allo Stato per essere distribuita, ma nello stesso anno 2023 l'Agenzia delle Entrate ci dice anche che noi abbiamo avuto il record di recupero dell'evasione fiscale, che è un altro dato straordinario, come è stato fatto? Con un approccio diverso, che non è l'approccio vessatorio, che non è l'approccio per cui lo Stato rischia di diventare quasi pericoloso, quasi un nemico, è l'approccio collaborativo con il contribuente, per cui se sei in difficoltà ti vengo incontro, poi certo più ti vengo incontro se sei in difficoltà, se poi trovo che mi vuoi fregare per forza e allora devo essere deciso nella mia reazione, ma devo essere collaborativo, cioè noi dobbiamo rendere le istituzioni e lo Stato italiano una realtà che non c'è bisogno di aggirare, che è nostra alleata, perché lo Stato alla fine è la nostra azienda di famiglia e se noi non capiamo questo, guardate i nostri problemi non li risolveremo mai, noi siamo l'unica nazione nel mondo dove esiste il detto fatta la legge e trovato l'inganno, ci sarà sempre qualcuno più intelligente di te che aggira una norma, che trova una soluzione alternativa, il problema è cambiare l'impostazione culturale di questa nazione, capire che facciamo parte tutti dello stesso destino e quindi quando aggiri lo Stato, quando aggiri l'istituzione stai aggirando anche te stesso, no? E un altro dato, perdonatemi per questa digressione ma ci tengo ogni tanto a raccontare, no? Perché poi anche noi dobbiamo essere più bravi a credere in noi stessi e alle nostre potenzialità. Un altro dato, altri due dati straordinari sono, un dato che è uscito due giorni fa mi ha reso particolarmente fiera, in Italia il rischio povertà diminuisce, diminuisce di quasi due punti, credo che questo sia qualcosa che ci rafforza, che ci aiuta, chiaramente si deve fare ancora meglio, si deve fare ancora di più, ma è molto incoraggiante. E quello sull'andamento dei titoli di Stato, perché l'andamento dei titoli di Stato in qualche maniera certifica come è vista la solidità della tua economia, no? Questo è un problema che l'Italia ha avuto, noi siamo sempre stati guardati un po' dall'alto in basso, un po' con gli altri che ci facevano gli esami ogni due giorni. Allora, qualche giorno fa noi abbiamo, c'è stato un record di acquisto sui mercati esteri dei titoli italiani, c'erano a disposizione 10 miliardi di euro, sono arrivate richieste per 155 miliardi di euro. Dopodiché abbiamo istituito il BTP Valore, BTP Valore sono dei titoli destinati ai piccoli risparmiatori italiani che in tre emissioni hanno raccolto circa 53 miliardi di euro, record storico in assoluto. E secondo me è molto importante una cosa sulla quale noi ci siamo molto concentrati, perché uno strumento del genere non solo consente di mettere in sicurezza i risparmi delle famiglie in un periodo di grande inflazione, ma perché più parte del nostro debito pubblico noi riusciamo a rimettere in mani italiane e più saremo liberi di gestire il nostro destino. E per me è molto importante che le famiglie italiane si fidino dello Stato, che si fidino dell'economia della loro nazione e che investano su quella economia, che investano su quello Stato, perché questo ci renderà molto più liberi. Allora, ovviamente il tessuto, le imprese di questa nazione hanno bisogno di essere sostenuti e torno ai 12 miliardi del PNRR per questo obiettivo, così come sulle grandi infrastrutture energetiche, così come sull'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese, sempre liberati con la revisione del PNRR, così come abbiamo messo altri 750 milioni di euro sulla sanità, altra grande emergenza che abbiamo in Italia, sulla quale ci stiamo concentrando particolarmente in tema di liste d'attese. Quindi abbiamo fatto su questi fondi complessivamente un lavoro molto serio e molto preciso. Questo mi porta all'accordo di oggi, che è un accordo con il quale noi, la regione Umbria è la undicesima regione a firmare questo accordo, noi faremo ovviamente questo lavoro, stiamo facendo questo lavoro con tutte le regioni italiane, con questo accordo noi mettiamo a disposizione di questo territorio quasi 240 milioni di euro, sono risorse che serviranno a finanziare 36 progetti strategici e permetteranno complessivamente di attivare investimenti per 280 e oltre milioni di euro e le principali linee di azione, il Presidente Tesei già ha raccontato parte di questo lavoro, è il tema della riqualificazione degli immobili, dei siti storici, delle infrastrutture strategiche, il potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti, lo sviluppo economico e l'attenzione allo sviluppo industriale. Ora chiaramente io non citerò tutti gli interventi che finanziamo con questo provvedimento ma a qualcuno vale la pena di essere ricordato perché racconta un po' la strategia che abbiamo portato avanti. Sul capitolo della riqualificazione abbiamo destinato 80 milioni di euro e rientrano in questo capitolo interventi che sono molto attesi dai cittadini che avranno una ricaduta diretta sulle comunità locali ai quali si riferiscono. Penso alla riqualificazione a Perugia dell'ex cinema teatro turreno che diventerà un polo culturale turistico congressuale, quello che noi vediamo oggi qui che anche questo luogo è oggetto di un intervento, dice che noi abbiamo bisogno di attirare in una regione straordinaria come questa sempre più persone e questo lo si fa in molti modi, si fa con il turismo, si fa con il cosiddetto turismo fieristico e congressuale, si fa con il turismo religioso, si fa con le infrastrutture che poi servono a collegare tutto questo. Ci siamo molto concentrati in questo accordo di coesione su questi obiettivi, penso alla valorizzazione a Foligno dell'auditorium dell'ex convento di San Domenico che diventerà un teatro di richiamo nazionale, penso al recupero a Spoleto del ponte interrato sanguinario che ha un'altra perla del patrimonio culturale Umbro che vogliamo rendere pienamente fruibile ai cittadini, ai turisti. Ci sono interventi per la riqualificazione particolarmente energetica di questo spazio che è un polo fieristico estremamente importante per questo territorio perché è perfettamente baricentrico rispetto all'Italia e quindi può attirare molto molto ancora molto più iniziative di quelle che già oggi ospita. Ci occupiamo della riqualificazione architettonica e funzionale del polo scientifico didattico dell'università a Terni e ci occupiamo del recupero del centro studi a Città di Castello per realizzare un centro di eccellenza per gli studi in campo educativo così come finanziamo la riqualificazione dell'ex ospedale di Città di Castello che è un bene settecentesco di straordinario prestigio. Quindi perché questo lavoro perché questa regione ha delle potenzialità e chiaramente una storia una tradizione che sono straordinari che vogliamo mettere a sistema e vogliamo mettere al sistema riqualificando integrando tradizione con innovazione quindi la nostra storia anche con la ricerca scientifica anche con l'efficientamento energetico il passato con il futuro e a monte di questo lavoro facciamo quello che serve sull'infrastrutturazione e qui non devo aggiungere molto a quello che la Presidente Tesei ha detto perché signori certo che è più facile arrivare insomma il tema dell'infrastruttura non è un tema che scalda i cuori diciamoci la verità no cioè perché perché le infrastrutture intanto sono risorse che tu metti oggi e che vedranno diciamo i loro frutti tra diversi anni probabilmente a tagliare il nastro ci starà un altro e non ci sarai tu che sei quello che ci ha messo le risorse quando i cantieri aprono nientanto la gente si arrabbia pure e quindi spesso si è preferito diciamo destinare le risorse altro solo che le infrastrutture sono l'unica vera garanzia di cittadinanza che puoi dare all'Italia l'unico vero strumento per l'eguaglianza dei cittadini perché non ci siano in questa nazione cittadini serie A e cittadini serie B cittadini che hanno delle opportunità e cittadini che non le hanno parte dalle infrastrutture su questo bisogna avere il coraggio di investire anche se creerà no nel senso è meno remunerativo vogliamo dire forse sul piano del consenso però chi ha una coscienza deve dedicarsi soprattutto a questo allora ci siamo occupati anche di questo c'è un lavoro importante oltre 150 milioni per diversi interventi strategici nel campo delle infrastrutture nel campo della mobilità ci occupiamo del potenziamento dell'aeroporto di San Francesco aeroporto internazionale forse un po' diciamo oggi sotto utilizzato rispetto alle potenzialità che potrebbe avere ci occupiamo dell'ammodernamento delle ferrovie con quattro treni regionali che renderanno che prenderanno finalmente il posto dei vecchi treni a gasolio ci occupiamo di diversi interventi sulla rete stradale per migliorare la viabilità regionale ci occupiamo del sistema del bus rapid transit di Perugia che è un sistema innovativo di trasporto elettrico basse emissioni alta capacità ci occupiamo insomma di migliorare la qualità della vita dei cittadini ma anche di offrire a chi si avvicina a questa regione proprio per gli eventi che cerchiamo di organizzare con l'altro lavoro che facciamo con la riqualificazione i servizi che sono necessari e quindi proviamo a rimettere l'Umbria nella posizione in cui ce l'ha già messa nostro signore e cioè al centro dell'Italia questa regione è un crocevia e deve utilizzare questa enorme opportunità che le è stata data non da noi e poi c'è come diceva e chiudo davvero la presidente Tesei un'attenzione anche qui allo sviluppo economico del territorio qui voglio citare particolarmente i 15 milioni di euro per finanziare il piano di rilancio del polo chimico di Terni dove verrà realizzato anche un centro di ricerca sui biomateriali insomma signori parliamo di cose serie parliamo di cose serie parliamo di cose che hanno chiaramente cercano di ragionare sulla lunga distanza e io sono molto contenta di questo lavoro per il quale devo davvero ringraziare ancora il ministro Fitto la presidente Tesei ma i tanti uffici che anche lavorano gli assessori che se ne sono occupati i sindaci che hanno collaborato facendo le loro richieste le loro ovviamente rivendicazioni per i loro territori alla fine abbiamo cercato di selezionare quelle che ci sembravano le priorità ma ovviamente continueremo a lavorare c'è un lavoro che continuiamo a fare sul PNRR c'è un lavoro che stiamo facendo sui fondi di coesione europei quindi sui fondi europei sicuramente sappiamo qual è la visione che deve accompagnare questo lavoro e la visione che deve accompagnare questo lavoro è che territori straordinari come l'Umbria devono banalmente essere messi nella condizione di competere ad armi pari perché voi non siete gente che arriva e chiede privilegi o assistenza o cose facili siete una terra operosa siete una terra fatta di persone orgogliose che chiedono banalmente di poter dimostrare il loro valore e noi siamo qui per fare il nostro meglio perché insieme l'Italia anche con il contributo fondamentale dell'Umbria possa dimostrare il suo valore nel mondo grazie